Ciao creatura, io sono Ecate Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di Kusai, A-S-M-O. Questa sera ti dedicherò una sessione di trucco molto molto rilassante, close up, io e te vicini vicini, come puoi notare, come sempre, ti strucco prima, anche se non sei truccata, creatura, ma ti pulisco il viso. Allora Allora Tu non preoccuparti, rilassati, lasciami fare tutti i miei suoni, tutte le cose, perché tanto lo sai che sei nel posto giusto, quindi rilasserai tantissimo. Non far caso agli altri suoni esterni, concentrati soltanto su quelli che sto facendo. Non so, la cosa è che 12 anni stucco. Non so, la cosa è una cosa che sto facendo. Non so, la cosa è l'incontrazione in questo modo. e il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info e il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info e adesso si può iniziare, asciugati un po' farò un trucco molto leggero, andiamo a togliere solo alcune imperfezioni del viso che ne ho poche poche so che tu pensi di averne tante tanti, tanti, tanti sono poche, poche pochi 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 Grazie a tutti. Ok, mi metto un altro po' qui. Ecco fatto. Andrò a stenderlo con questo smugnetto in forma di guccia. Guccia, guccia. Forma di guccia, guccia. 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 Piquetando, sienos, tendendo Ok, adesso però distendo un po' di cipria sul viso E per fissare la base, diciamo, di quello che è stato fatto adesso In modo estremamente delicato Ok, good Grazie Vado a stenderti in modo un po' più rapido Vado a stenderti in modo un po' più rapido Ok, adesso metto un po' di ombretto sugli occhi Un po' di ombretto sugli occhi Un po' di ombretto sugli occhi Un po' di colori tra cui puoi scegliere Ci toni del verde, dell'azzurro, del marrone Ed è un misto tra viola e marrone Un po' glitterato Ti piace il blu? Puoi scegliere azzurro, blu elettrico, blu notte, blu notte, blu notte Allora, posso farti una sfumatura che va dall'azzurro al blu elettrico al blu notte? No, non vuoi azzurro, non vuoi blu elettrico, blu notte, vuoi solo blu notte, blu notte, blu notte Sei sicura, creatura? Perché dopo ti metterò questo rossetto Che ha un profumo buonissimo Ok, allora Allora, allora Facciamo un marrone Un nero Nero glitterato Facciamo un nero glitterato, va bene? Ok Vado per il nero glitterato, allora Andrò a stendertelo con questo pennellino, così Molto morbido Cure gli occhi 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 Sono D Breakdok dopo ti devo anche dire un segreto mi raccomando non dirò nessuno mi raccomando ok vado a stendere un po' con le dita perché andrò a sfumare ok ti do anche una pettinata si dopo ti metto l'ossetto un po' di blush anche ok 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 poi allora vuoi che con questo rossetto qui ti metta un po' di blush non ce l'ho color base so che vuoi color base però ho solo questo ma non è brutto non te ne metto troppo non sembri un clown senti che buon profumo senti buonissimo tipo di di cileto cileto, cileto senti fa un rumore senti un po' che scoppi sta un po' suono mi piace ok ok allora ho proprio un strato molto molto sottile lì è delicato sulle gote sulle guance e ne vorresti anche un pochino sotto il naso c'è sul nasino no? va bene allora solo sulle guancitte 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 basta adesso andiamo a a sfumare un po' andrò a usare questo pennello questo pennello esatto molto soffice esatto ok ok andrò a stendere su tutte e due le guancitte 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 in modo molto molto delicato come c'è ecco qua wow sei molto molto carina adesso ti metto questo sulle labbra d'accordo? non è troppo eccessivo sta bene un po' con questo make up un po' Glamrock 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 ok ma è solo per giocare non perché dopo ci devi uscire poi dopo te lo tolgo così hai provato anche tu l'esperienza di un make up è solo per giocare poi dopo vi andare a dormire ok oihat R quindi ok perfetto fai così vediamo cos'è una bellissima creatura truccata vuoi restare così? vuoi che ti strucco? allora ti strucco vuoi farti qualche foto? vuoi mettere non lo so su instagram ok allora ti strucco va bene così almeno vai a dormire e tutta la politica sono sporchi così così ok 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 ecce adesso acquisto eh ok 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 Grazie a tutti. Stiamo vedendo che è appena tutto il make-up. Adesso togliamo anche il rossetto perché la guardatina non va a congelare. Sì perché facciamo così. Ecco qua. Anche il rossetto se ne è andato io, come puoi vedere. Bene, bene, benissimo. Allora io stesso ti dico un segreto così tu non hai tempo di bozzire gli occhi e addormentarti, va bene? Devi custodirlo, mi raccomando. Allora, seguite questo. Allora, seguite questo. Allora, seguite questo. Allora, seguite questo. Allora, seguite. quindi offro cioè apposta Luxor agitante una cosa che Giulia è nulla è che la film della spolie di Man Då li genalai nonadım negli pengetti nongenommen non che no ci stanno certo e non vi metci qualcosa di più e ora vi ho fatto il tuo�enso che tu sei non vi ho fatto il tuo lavoro che io ho fatto il tuo lavoro e ho fatto la sua stessa che tui qui io e lui e io e il tuo lavoro C'è bellissimo E' a sorveggio la mia Eso fa' semino a mai asciprod anche questo si ma si 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 che si è piaciuto che si è piaciuto adorare un po' di riscaldi che si è piaciuto che si è piaciuto di a corpo e notti genito ciao creatura